Funerale con tanto di corteo, una trentina di partecipanti, tra cui un figlio della defunta arrivato dalla Lombardia. In altri tempi la scena sarebbe passata quasi inosservata, invece in piena emergenza coronavirus ha sollevato non poche perplessità. E quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri a Ceraso per l'ultimo saluto ad un'anziana donna, il Carlo con il feretro sarebbe passato dinanzi all'abitazione dell'anziana con al seguito alcune persone. Davanti alla casa della defunta sarebbero state lette delle preghiere, poi il carro è ripartito. Inevitabilmente si è formato un piccolo corteo a cui non è sfuggita la presenza di uno dei figli della donna arrivato dal nord. Per l'uomo sarebbe scattata la sanzione, questa mattina lo avrebbero raggiunto i vigili urbani per notificargliela, così come a palazzo di città starebbero lavorando per identificare le altre persone che hanno preso parte al funerale. Purtroppo l'emergenza coronavirus non consente di poter accompagnare nell'ultimo viaggio i propri cari. Per quanto triste, le restrizioni ci chiedono di restare a casa anche nei momenti di dolore. Tra i presenti anche alcuni cittadini del posto, titolari di attività commerciali in altri comuni del Cilento. Il corteo sarebbe arrivato fino all'uscita del paese, poi in auto avrebbero raggiunto il cimitero. Il tutto non è passato inosservato. Molti cittadini preoccupati che hanno chiesto chiarimenti. Grazie. Grazie.